Una città adatta ai più piccoli è in grado di garantire una migliore qualità di vita a tutti i cittadini. Con questo presupposto l'amministrazione comunale di Fano parte da Sant'Orso con un progetto per trasformare ogni quartiere a misura di bambino. L'iniziativa, che rientra nel programma di interventi denominati Fano Cresce, comprende la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili, ma anche la riqualificazione delle aree verdi. Tutte idee presentate mercoledì nella piazzetta del centro commerciale di Sant'Orso alla presenza del sindaco Seri, degli assessori comunali e dei bambini della scuola primaria Montesi che hanno collaborato alla redazione degli elaborati progettuali. È un significato importante e vuol dimostrare che noi crediamo in questo progetto della Fano Città dei Bambini, ma vuol essere un'azione concreta. Attraverso questo percorso che i bambini hanno fatto ci presentano, come loro pensano, un quartiere a misura di bambino, quindi a misura di tutti, dei genitori, dei loro nonni, delle persone che con difficoltà ripensare gli spazi. E noi terremo conto di questo loro progetto, che tradurremo ovviamente poi in un progetto attraverso i nostri tecnici, con l'impegno di realizzarli. Tra questi rientra anche l'identità del quartiere. I bambini hanno detto che in questo quartiere c'è solo residenza e invece c'è bisogno di inserire altri elementi. Allora hanno pensato a un museo, a una biblioteca e anche ad interventi che aiutino a capire la storia di Fano. È stato un lavoro lungo e partecipativo che ha coinvolto non solo i più piccoli, ma anche i genitori e le associazioni fanesi. È il punto di partenza per iniziare a programmare una serie di interventi di riqualificazione del quartiere di Sant'Orso, ma interventi che stanno dentro la filosofia della città delle bambine e dei bambini. E quindi di ripensare gli spazi, soprattutto gli spazi pubblici di questo quartiere, come spazi a disposizione di tutta la città, con l'occhio però delle bambine e dei bambini. È un progetto importante perché quello di Sant'Orso sarà il progetto pilota che poi andremo come amministrazione comunale a riproporre anche negli altri quartieri della città. Si cerca davvero di dare un indirizzo più tranquillo e sereno per gli stessi bambini, proprio per un discorso di andare poi praticamente a scuola a piedi, poter vivere serenamente proprio il quartiere nella misura di bambini. Sono molto contento di questo momento.